In un mondo sempre più caratterizzato da fenomeni migratori, il rapporto con le altre religioni, in particolare con l'Islam, diventa argomento fondamentale per la politica quanto per la società civile. Se ne è parlato ad Agnone nell'ambito del progetto culturale Confini, promosso dalla Diocesi di Trivento con la collaborazione del Centro Studi Alto Molise. Ospite d'eccezione al Teatro Italo-Argentino Gianfranco Fini, la sua presenza assume ancora più rilievo perché è un ritorno in pubblico dopo i noti fatti giudiziari che lo hanno visto coinvolto. In questi anni di anonimato, Fini è rimasto lontano da qualsiasi discussione politica e del resto anche ad Agnone di politica non ha voluto parlare. Ora l'ex presidente della Camera e fondatore di Alleanza Nazionale si sta dedicando, insieme a un gruppo di ricercatori, alle conseguenze dell'impatto della cultura islamica con la realtà nazionale e con la tradizione cattolica del nostro paese. Non c'è alle viste uno scontro tra civiltà, uno scontro tra religioni, perché il dialogo interreligioso non è mai venuto meno, perché esiste, seppur quasi silenzioso, anche un Islam riformatore, un Islam che accetta i valori della società occidentale. Il problema fondamentale, secondo Fini, è quello di inserire il mondo islamico in un contesto laico che i musulmani non riconoscono. Sta aumentando molto il numero dei cittadini europei di religione musulmana e questo comporta la necessità di capire quale integrazione è possibile. Tematiche, quelle trattate ad Agnone, destinate ad essere riprese anche in altri contesti, come ha spiegato il sindaco Saia. Come ben sapete l'Italia ha già degli accordi con le altre regioni, con l'Islam è in fase di discussione. Insomma, il rapporto tra Islam e cultura occidentale è ancora tutto da scrivere, tante le difficoltà, ma che potranno essere superate solo attraverso il dialogo. Il rapporto possibile ci deve essere per forza e il rapporto soprattutto positivo, il più possibile, perché equivale, diciamo così, anche ad un rapporto positivo tra religione e Stato.